Allora buon mattino a tutti. Allora stamattina comincio in una serie di 21 video sopra 21 leggi del leadership. Il leadership è la cosa la più importante se uno vuole avanzare dentro un'impresa, se sei capo di ristorante, se sei capo di impresa, qualsiasi cosa che sei capo, capo di famiglia. Allora il leadership è il numero uno. Il leadership è l'influenza. Tutto e niente. Quando tu parli di influenza, quello che ha la più influenza è il più forte leader o capo. Allora per avanzare ognuno deve capire dove sta. Allora non siamo tutti numero uno nella vita. è impossibile, non esiste. Ma possiamo tutti avanzare a diventare un leader, un capo migliore che sarà nella casa e che sarà nell'impresa. Non fa niente. Deve soltanto capire dove siamo oggi e dove vogliamo andare domani e fare tutto quello che si deve fare per essere il migliore. Allora per diventare il migliore, ascoltando video come questo o altri, lettura, molto lettura, ascoltare gente più anziana di noi, gente che hanno più esperienza di noi. Allora è sempre importante di prendere tutto quello che viene, che si usa o che non si usa, non fa niente, ma prende tutto. Perché più informazione hai, più sei capace avanzare e distinguere quello che è buono e quello che non è buono per avanzare e diventare un leader, un capo al livello che tu vuoi diventare, un livello che puoi avere l'influenza con tutti gli agenti, perché gli agenti più forti di te non ti seguiranno. Ti seguiranno se vedono, se guardano che tu ti stai sforzando e stai diventando un leader migliore, che tu metti l'impegno e la forza per essere migliore. Poi gli agenti, pure che siano più forti o più o meno forti, ti seguiranno. Perché? Il rispetto, il rispetto e il rispetto, perché vedono che tu stai facendo, stai a fare tutto quello che deve fare per essere la migliore, la migliore persona per essere capo o leader. Allora, questo è il primo video. Vi ringrazio. Mi scuso ad avanzo per la mia dittura come parlo l'italiano. Non è perfetto, ma per questo è il mio sforzo per diventare un migliore leader e parlare in migliore italiano. Voglio praticare con voi. Allora, vi ringrazio. Se vi piace, like, share, facete quello che volete. Ogni settimana ci sarà un video per voi. Allora, la settimana prossima passiamo alla legge numero due del guru John Maxwell, che è il mio guru, il mio professore, che mi ha imparato le 21 leggi del leadership e ve le passerò a voi. Allora, ancora un grande ringraziamento, una bellissima giornata e alla settimana prossima. Ciao!